Don Giuseppe Rugolo è stato condannato 4 anni e 6 mesi per violenza sessuale, ex articolo 609 bis e quater del codice penale, quindi su minori di 16 anni, e tentata violenza sessuale, con interdizione per 5 anni dai pubblici uffici e interdizione perpetua dall'insegnamento nella scuola di ogni ordine e grado. La curia vescovile della diocesi di Piazza Armerina è stata riconosciuta responsabile civile e dovrà rispondere in solido con il sacerdote del risarcimento delle parti civili, prescritti invece i fatti avvenuti prima del maggio 2011. Si è concluso così il 5 marzo il processo di primo grado al sacerdote di Enna, 42 anni, chiamato a rispondere di violenza aggravata su minori secondo gli articoli 81 e 609 del codice penale. Il prete di Enne era stato arrestato il 27 aprile 2021 dopo la denuncia di Antonio Messina, 16enne, all'epoca dei fatti. Nel corso delle indagini erano poi emerse anche due vittime minorenne, sempre all'epoca dei fatti. Il tribunale, composto dal presidente Francesco Pitarresi e dai giudici Alatre, Elisa Daveni e Maria Rosaria Santoni, ha emesso il verdetto dopo otto ore di camera di consiglio. Una sentenza che arriva dopo 22 udienze a porte chiuse e 53 testimoni sentiti. Il procedimento si era aperto 7 ottobre 2021 davanti al tribunale di Enna. Messina, oggi trentenne, aveva raccontato agli inquirenti di essere stato abusato da rugolo per quattro anni, dal 2009 al 2013. Questa è una sentenza importante perché non solo è stata riconosciuta la responsabilità penale del sacerdote, ma è stato anche messo in luce un metodo abusante, sostenuto dall'ambiente ecclesiastico locale, ha dichiarato Eleanna Parasiliti, avvocata di Antonio Messina. Sono soddisfatto per il risultato, ha commentato Messina. La condanna è un passo importante perché riconosce la presenza di abusi, anche se è chiaro che per me ci sono stati tentativi di condizionamento nel corso del processo. Gli avvocati Giuseppe Rugolo, Antonino Lizio e Dennis Loviso non hanno rilasciato commenti. Il 24 dicembre 2018 Antonio Messina aveva denunciato i fatti anche al vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, che all'inizio del 2019 aveva disposto un'investigazio previa sul sacerdote. L'indagine ecclesiastica si era però conclusa in un niente di fatto, perché l'allora Congregazione per la Dottrina della Fede e di Castero preposto a decidere dei casi di abuso sessuale su minori aveva stabilito di non essere competente, perché Rugolo era ancora un seminarista all'epoca dei primi approcci con il ragazzo. Gli altri abusi, secondo quanto sostenuto dai giudici ecclesiastici, risalivano quando Antonio era ormai maggiorenne e Rugolo non ancora sacerdote e quindi non rientravano nei casi di competenza del diritto canonico. Un anno fa Papa Francesco lo aveva nominato tra i nuovi membri del C9, il Consiglio dei Cardinali che lo aiutano nell'opera di riforma della Chiesa. Ora ha nominato un giudice in pensione della Corte Superiore del Quebec per indagare sulle accuse di abusi sessuali che sono state mosse contro di lui. Parliamo dell'Arcivescovo del Quebec, Cardinale Gérald Cyprien Lacroix, 65 anni, oggetto di un'investigazione preliminare affidata dal Papa, in conformità con le disposizioni del motu proprio Vosestis Luxmundi, a un giudice in pensione della Corte Superiore a causa di una class action che lo ha citato come responsabile di presunta violenza sessuale su un adolescente di 17 anni tra il 1987 e il 1988. L'azione legale, autorizzata dalla Corte Superiore del Quebec nel 2022, contava già 147 imputati e coinvolge ora, oltre al Cardinale, anche quattro istituzioni diocesane, tra cui il seminario. È stata lanciata dallo studio legale Arsenault Dufresne Oui Avocat, che ha posto fine a un tentativo di composizione amichevole avviato, un anno fa, nel contesto della class action contro la diocesi. Lacroix, arcivescovo dal 2011, cardinale dal 2014 e membro di diversi di Casteri Vaticani, ha respinto le accuse, ma il 26 gennaio, in un video di 6 minuti, ha annunciato le proprie dimissioni temporanee, in attesa che la situazione si chiarisca. La nostra diocesi resta fermamente impegnata a garantire che le vittime di abusi ricevano un risarcimento finanziario, oltre ad altri mezzi a loro disposizione per ottenere la guarigione, ha detto, riconosciamo la sofferenza delle vittime ed è con umiltà che andiamo avanti nel processo di azione collettiva. Il Cardinale ha anche espresso delusione per il fallimento delle trattative con lo studio legale. Temo che questa decisione prolungherà indebitamente i ritardi prima del risarcimento che i sopravvissuti ad abusi sessuali aspettano da troppo tempo, ha detto. Un'uscita pubblica, ritenuta sorprendente dallo studio legale Arsenault, che, secondo quanto riportato da ICI Quebec e Radio Canada, ha ribadito come le due parti avessero firmato un accordo di riservatezza sul contenuto di questo tentativo di composizione proposto dalla Corte Superiore e durato, come detto, più di un anno. Hanno molta compassione per le vittime, è bellissimo, ha detto l'avvocato Arsenault. Ma dopo? Sì, preghiamo per le vittime. Ma quali azioni hanno intrapreso in seguito? Ex dirigente dell'Azione Cattolica, professore di religione e vicepreside. Per lui, accusato di violenza sessuale su Minoi, erano stati chiesti dieci anni di carcere, ma la procura di Tivoli non esclude un secondo processo. È stato condannato a nove anni di carcere per violenza sessuale Mirko Campoli, ex dirigente dell'Azione Cattolica, insegnante di religione e vicepreside a Tivoli. Per circa quattro anni l'uomo ha abusato di un ragazzino che gli era stato affidato, ma non è l'unico ad avere subito le violenze di Campoli. Per una seconda violenza, avvenuta durante un campo scuola, ha provato a difendersi in aula, sostenendo in quel periodo soffrivo di depressione. Le indagini sono scattate dopo che i due ragazzini si sono confidati con le fidanzate, anni dopo aver subito gli abusi. E così sono stati spronati a rinunciare, anche con l'aiuto della garante per l'infanzia e l'adolescenza del Lazio, Monica Sanzoni, che si è costituita in quanto garante parte civile nel processo. All'epoca i due avevano 12 e 16 anni. Sul primo ragazzo gli abusi sarebbero andati avanti per quattro anni, fino a quando non è scoppiato il covid ed è stato disposto al lockdown. I genitori del piccolo lo avevano affidato a Campoli, fidandosi di lui, che invece avrebbe abusato del dodicenne a Tivoli, Guidonia e in altri centri italiani, anche durante una gita a Gardaland almeno una volta al mese, per un totale di una cinquantina di episodi. Il sedicenne invece sarebbe stato abusato durante un viaggio di istruzione a Loreto, in provincia di Ancona, a cui Campoli aveva partecipato come professore e vicepresidente. Papa, abusi, non accada più che non siano ascoltate le vittime, ha titolato l'Ansa il 7 marzo. Occorre coraggio per andare fino in fondo nell'accertamento rigoroso della verità. Questo vale, in special modo, quando emergono e devono essere sanzionati comportamenti gravi e scandalosi, tanto più quando avvengono nell'ambito della comunità cristiana. Sono le parole del discorso di Bergoglio, il 2 marzo all'inaugurazione dell'anno giudiziario Vaticano. Due discorsi che apparrebbero più che condivisibili e persino coraggiosi, intenzioni pie e di verità e giustizia, di cristianità autentica. Nelle stesse ore le agenzie stampa hanno battuto la notizia che finalmente anche Gasparri, per Forza Italia, ha consigliato la lista dei membri della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuele Orlandi e Mirella Gregori. 40 anni sono passati dal rapimento di Emanuele Orlandi, 40 anni di silenzi, depistaggi, trame, di giustizia negata. E se ci sono mura finora invalicabili per Pietro Orlandi, sono quelle vaticane. La Commissione parlamentare è stata attaccata e ostacolata in primis dalle ambienti vaticani. Alessandro Diddi, colui che dovrebbe indagare per conto della giustizia vaticana, ha pubblicamente attaccato l'istituzione della Commissione, così come ha fatto il cattolicissimo Pierferdinando Casini nelle stesse aule parlamentari. Diddi, che ha anche attaccato lo stesso Pietro Orlandi dell'Avvocato Laura Sgro, oltre a aver ri-esumato vecchie accuse ad uno zio, costruendo una realtà artefatta e non vera. Nei decenni innumerevoli sono i casi di abusi insabbiati, depistati, nascosti, di giustizia negata, e l'ascolto da parte della giustizia vaticana, il caso italiano ne è plastica dimostrazione, non è mai esistito. Dalla ciaia di Zuppi siamo passati dai proclami ad una realtà di vescovi che hanno coperto, che hanno perseguitato giornalisti, di difesa di se stessi, due report non hanno riportato nulla, e una gran parte delle diocesi non ha mai istituito i tanto sbandierati servizi di ascolto. Ora, nuovebbe i discorsi di Bergoglio, ma, ancora una volta, e la coincidenza con la Commissione parlamentare sembra quasi un segno del destino della realtà, tra le parole e la realtà c'è la mancata concretezza della verità. Sulla vicenda del sacerdote Giuseppe Rugolo, condannato in primo grado a quattro anni e sei mesi dal Tribunale di Enna per violenza sessuale aggravata a danno di minori e atti sessuali con minori, si sperava che la sentenza, emessa il 5 marzo scorso, potesse porre fine alla vicenda. Invece il botta e risposta tra il legale della diocesi, condannata alla responsabilità civile insolito con Rugolo, e l'avvocato della difesa di Antonio Messina, il giovane che ha denunciato, non si placa. Al tentativo di minimizzare i reati messi in atti da Gabriele Cantaro, il legale della diocesi, risponde l'avvocato di Messina, Eleanna Parasiditi Molica. E mentre la diocesi con il suo avvocato punta il focus sul tentativo di violenza, riconosciuta in sentenza contro il Messina, l'avvocato Parasiditi Molica ricorda in una nota che il Tribunale di Enna, con riferimento alla posizione di Antonio Messina, ha condannato Rugolo per tentata, violenza sessuale, in ordine ai fatti accaduti nel 2013, dichiarando però la prescrizione per i fatti accaduti in precedenza. Un tentativo di minimizzare i fatti, dunque che non coglie nel segno, perché si omette di raccontare che con riferimento ai fatti del 2013, il reato risulta tentato solo grazie al fatto che Antonio Messina è riuscito a sottrarsi all'aggressione sessuale. Ciò significa che, è a dire del Tribunale, i fatti che vanno dal 2009 al 2012 sarebbero avvenuti, ma si sarebbero estinti, per prescrizione a causa del decorso del tempo. Se il Tribunale avesse ritenuto che i fatti non fossero accaduti, avrebbe infatti prosciolto l'imputato nel merito. Vorrei ricordare, aggiunge l'Avvocato Leanna Parasiriti Molica, che il reato per il quale comunque Rugolo è stato condannato è violenza sessuale aggravata, danno di minori e atti sessuali con minori relativamente alle altre due vittime. La reale pericolosità delle condotte ascritte al sacerdote, riconosciuta dalla sentenza, si evince dalla decisione del Tribunale di dichiarare l'interdizione in perpetuo da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni e un'altra struttura pubblico-private frequentate prevalentemente da minori. Proprio questa statuizione evidenza l'importante di questa pronuncia che ha condannato il metodo abusante utilizzato dal Rugolo nei confronti dei minori a cui Enna aveva affidato i propri giovani. In tal senso è significativa la condanna della diocesi nella qualità di responsabilità civile. A fronte di questa considerazione, conclude la Parasiliti, è intenzione di questa difesa portare a conoscenza le autorità giudiziarie competenti il contenuto dell'hard disk elaborato dalla Polizia Giudiziaria dopo il sequestro dei supporti informatici di Rugolo perché venga accertato la presenza di immagini pedopornografiche alcune delle quali già è prodotte in aura. In attesa della lettura delle motivazioni dice la Parasiliti auspico un contegno rispettoso nei confronti di quelli che sono stati e rimangono vittime e che si prende atto di una sentenza di condanna. Ora la Chiesa faccia la sua parte. Nel 1517 iniziò a circolare per l'Europa la taxa Camere. un documento che porta in calce la firma di Papa Leone X si tratta di un elenco di indulgenze messe in vendita in cambio dell'assoluzione sacramentare dai peccati gravi commessi da religiosi. Omicidio, rapina, furto, truffa. Per il pontefice figlio di Lorenzo de' Medici in crisi di liquidità a causa degli spropositati costi di costruzione della Basilica di San Pietro tutto aveva un prezzo e tutto poteva essere perdonato. anche gli stupiti donne e bambini compiuti su donne e bambini. Citazione Se l'ecclesiastico oltre al peccato di fornicazione chiedesse ed essere assolto dal peccato contro natura o di bestialità dovrà pagare 219 libri e 15 soldi. Ma se avesse commesso peccato contro natura con bambini o bestie e non con una donna pagherà solamente 131 libri e 15 soldi. Cita il punto 2 del documento Oggi oramai opinione diffusa dagli storici che la taxa camera sia un falso messo in circolazione all'epoca dai seguaci di Lutero che intendevano in questo modo denunciare il degrado morale in cui versava la Chiesa Cattolica. Se quelle tariffe erano un blef ciò non può dirsi dei crimini che vennero commessi da sacerdoti di ogni ordine e grado al tempo e nei secoli successivi sapientemente sottratti dal segreto dell'inquisizione al pubblico dominio. Vi fa venire in mente qualcosa riscontrate per caso delle analogie in modo in cui la Chiesa soprattutto quella italiana affronta il fenomeno criminale della potifolia ai giorni nostri? Per chiarire un po' ecco cosa scrive lo storico Adriano Prosperi uno dei massimi esperti di storia del Sant'Uffizio. E dunque guardiamo in faccia la verità che è quella di una turpitudine storica e non solo episodica giuridica e non solo morale questa vicenda è cominciata secoli fa scrive Prosperi la inaugurò Papa Paolo IV Carafa quando nel 1559 stabilì che i preti e frati colpevoli di reati di natura sessuale nati nel contesto della confessione sacramentale dovessero essere sottoposti al Sant'Uffizio dell'Inquisizione era in apparenza una misura radicale dura minacciosa per i colpevoli in realtà era la via d'uscita scrive Prosperi per chiudere la conoscenza di episodi scandalosi nello spazio giuridico di un tribunale ecclesiastico segretissimo la ragione della scelta era ovvia Lutero aveva bruciato non solo la bolla di scomunica ma anche l'intero corpus del diritto canonico giudicato da lui una delle muraglie con cui il clero si era alzato al di sopra del popolo cristiano la chiesa cattolica prosegue lo storico ribadì la superiorità sacrale del clero mantiene il diritto canonico e il privilegio del foro per i chierici e nel confermare l'obbligo del celibato ecclesiastico preparò un comodo rifugio per chi lo infrangeva e per chi infangava il sacramento del perdono dei peccati attentando ai minori e alle donne che si affacciavano al confessionale da allora conclude lo storico Adriano Prosperi e per secoli i processi per i casi di sollicitazio sono stati nascosti dal segreto impenetrabile del sant'uffizio mentre i colpevoli venivano semplicemente trasferiti di sede per difendere il buon nome del clero tutto questo è accaduto fino a oggi per questa edizione è tutto grazie per averci seguito l'appuntamento è per sabato prossimo alle 12 avete l'abuso news vi auguriamo un buon weekend un buon un buon Grazie a tutti.